Dalla CGL arriva una proposta per risolvere le problematiche dell'ecotedi a Giulianova. Per il sindacato si potrebbe dare l'affidamento diretto a Giulianova a patrimonio dei servizi. Una proposta che arriva a otto mesi salvo proroga della scadenza del contratto con l'ecotedi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Nel frattempo, dopo l'incontro avvenuto tra il neosindaco del Comune Costiero Costantini e i sindacati, si sono sbloccati i pagamenti degli arretrati per i lavoratori dell'ecotedi. Dobbiamo dire che un parziale risultato l'abbiamo ottenuto con l'ecotedi. Con la mensilità di giugno è stata pagata la quota a previ ambiente con gli arretrati dal 1 gennaio 2018. Ci sono altre questioni ancora aperte per cui noi con l'azienda apriremo un tavolo di trattativa. Poi abbiamo fatto come CGL una proposta, quella che è praticamente di dare l'affidamento diretto quando scadrà questo appalto, che dovrebbe essere marzo-aprile del 2020, alla Giulianova a patrimonio. In questo senso credo che ci guadagnerebbero i cittadini, perché chiaramente nel lungo periodo dovrebbero pagare meno tari. E il servizio in sé, in quanto se il Comune gestisce in prima persona, perché comunque la Giulianova a patrimonio è una società in ausa al 100% del Comune di Giulianova, credo che se ne avvantaggi anche il servizio stesso. Grazie a tutti.